Il 15 settembre, come sappiamo, c'è stato il merge di Ethereum, che ha portato il passaggio della rete Ethereum da Proof of Work a Proof of Stake, un evento effettivamente molto atteso in ambito cripto che però ha portato gli utenti a porsi parecchie domande. Prima di rispondere a queste domande però voglio fare chiarezza su cosa è stato il merge di Ethereum. Infatti l'algoritmo Proof of Work richiede che i nodi della rete utilizzino un'elevata potenza di calcolo per risolvere dei problemi matematici come metodo di verifica delle transazioni sulla blockchain. Una volta poi verificate queste transazioni saranno inserite all'interno di nuovi blocchi che poi saranno aggiunti alla blockchain. Capite bene che una potenza di calcolo così elevata richiede anche un enorme dispendio di energia. E tra l'altro quest'algoritmo per essere violato richiede che l'attaccante possegga il 51 o più per cento di tutta la potenza di calcolo dei nodi presenti sulla rete, che effettivamente sì è alquanto improbabile, però non è poi del tutto impossibile. Ah e tra l'altro penso di non averlo detto, ma chiunque risolverà questo problema matematico riceverà una ricompensa. Mentre con l'algoritmo Proof of Stake il creatore di un nuovo blocco sarà scelto tra un gruppo di utenti che hanno messo in staking una certa quantità di una certa criptovaluta. In questo caso stiamo parlando della blockchain di Ethereum, quindi faremo un focus solamente su questa blockchain. Capite bene però che qui non serve più risolvere dei grandi e complessi problemi matematici, quindi non serve più nemmeno una potenza di calcolo tanto elevata, tanto meno servirà a spendere tantissima energia. Che era tra l'altro una delle cose più criticate alla blockchain di Ethereum, appunto il consumo energetico, soprattutto in un'epoca in cui facciamo tanto caso, o meglio dovremmo far tanto caso alla sostenibilità come quella in cui siamo oggi. Pensate che si stima che il fabbisogno energetico di tutta questa blockchain sia sceso del 99% e questa riduzione del 99% si riflette su una riduzione dello 0.2% di tutto il fabbisogno elettrico mondiale. Ed ovviamente ogni volta che parlavo di fabbisogno energetico si parlava principalmente di elettricità. E questo algoritmo per essere violato richiede che l'attaccante possegga il 51% della fornitura della criptovaluta stessa. Ed è una cosa talmente costosa che anche se non impossibile è molto più improbabile rispetto al 51% della potenza di calcolo richiesta da un possibile attacco alla proof of work. E adesso passiamo alle domande. Essendoci stato un passaggio così pesante da un algoritmo ad un altro, ci si chiede il perché non c'è stato un grande impatto sull'utilizzo dei nostri portafogli in merito a questa blockchain. Beh, semplicemente perché sì, c'è stato un passaggio effettivamente molto potente dietro, quindi alle spalle, nel back-end, però effettivamente nel front-end mi viene da pensare all'utilizzo di Metamask, effettivamente a noi non cambia poi così tanto. E questo è semplicemente il motivo per il quale effettivamente è difficile accorgersi che qualcosa è cambiato. Un'altra domanda è, è sicuro tenere Ethereum, token ERC20 ed NFT basati ovviamente sulla blockchain di Ethereum, sui portafogli dei quali deteniamo le chiavi private, quali Metamask o magari il Ledger? La risposta a questa domanda è sempre sì. Anche se il merge c'è già stato, mi sembra inutile dire che tenerli prima e durante il merge sarebbe stato sicuro, ma ovviamente anche tenerli dopo che questo merge è stato effettuato è ugualmente sicuro. Infatti sono stati fatti tantissimi test sulle reti di testnet, scusate il gioco di parole, prima di passare all'effettivo merge della rete principale, della mainnet di Ethereum, e non l'avrebbero fatto se ci fossero stati dei grandi problemi di vulnerabilità. Un'altra tra le domande più frequenti è, passando Ethereum da Proof of Work a Proof of Stake, e si sa che le blockchain che utilizzano la Proof of Stake sono molto più economiche in termini di gas fees, si abbasseranno anche le gas fees di Ethereum? La risposta a questa domanda è purtroppo ancora no. Infatti non ci sarà un abbassamento significativo delle gas fees di Ethereum fino al 2023, anche se ancora non si sa la data. Però non è vero neanche che le gas fees aumenteranno. Infatti poco prima e durante il merge si consigliava di evitare di effettuare transazioni con valori molto alti, sia per la possibilità di perdere quell'importo in qualsiasi modo, magari sbagliando una procedura, o magari anche per un attacco in un momento di vulnerabilità in quel cambiamento, ma anche perché le gas fees durante il merge si sarebbero alzate davvero tanto. E infatti così è stato. Però dopo il merge queste gas fees si sono ristabilizzate più o meno ai livelli di prima. Infatti ho provato a deployare un contratto in blockchain come facevo prima, sempre più o meno verso lo stesso orario, e il prezzo era all'incirca sempre quello, tra 50 e 100 dollari. E l'ultimo punto che voglio toccare è lo scam. Infatti le persone si chiedevano, le mie criptovalute sulla blockchain di Ethereum, quindi token ERC20 o magari altri token ERC721 come magari NFT o 1155, comunque che cosa ci devo fare? Li devo tenere sui miei portafogli hardware, sul mio portafoglio fisico, lo devo mandare sull'exchange? Anche se gli NFT non si possono mandare, che io sappia. Però tutti si ponevano queste domande. E ovviamente in un momento in cui c'è paura sul mercato e non si sa bene come agire, ecco che arrivano gli scammer. Infatti anche se il merge è passato e prima e durante il merge non avreste dovuto dare le vostre chiavi private a nessuno, magari a persone che vi mandavano dei link dicendo che era per la sicurezza, questo o quell'altro. Tantomeno dopo il merge dovrete inviare le vostre 24 parole chiave a nessuno, soprattutto se si spacciano per delle persone che mettono in sicurezza il vostro account, dato che c'è stato il merge. Ed anche per questo video è tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!